Sicuramente è stata una partita difficilissima anche perché abbiamo affrontato una delle squadre più forti del girone. Sono una grande squadra, i miei ragazzi hanno dato una grossa dimostrazione di carattere e di gruppo. Diciamo che la partita è stata un po' incanalata per determinati episodi, mi sarei aspettato meno protagonismo da alcune persone. Ma diciamo che i protagonisti in campo dovrebbero essere sempre i calciatori, quelli che tra virgolette esterni dovrebbero pensare altro e cercare di favorire lo spettacolo del campo che c'è stato tanto. Sappiamo le difficoltà, da dove siamo partiti, sappiamo dove siamo partiti, ma sappiamo anche dove dobbiamo arrivare e dove vogliamo arrivare. Sicuramente ha pesato tanto, è stata un'ingenuità del ragazzo che è stato punzecchiato più e più volte. Il ragazzo nella foga del gol ha fatto un gesto che io penso che si poteva anche passare sopra perché nel calcio la bellezza è proprio il gol. Poi il gesto è stato un po' infantile, ma si poteva evitare, visto che ha preso una munizione appena un minuto prima. Gli episodi relativi ai due calci di rigore come li giudica? Io penso che c'erano entrambi, sia a favore loro che a favore nostro. Quindi su quello penso che l'arbitro non abbia sbagliato nulla, non posso ricriminare su quello. Più per la gestione, quello posso ricriminare perché la gestione sicuramente è stata un po' troppo nervosa e ha nervosito una partita che secondo me non c'era niente da innervosire.